ecco questo sicuramente non è un porcino una manita lo stesso molto invitante ma probabilmente guarda che c'è un po' di giallo qua è un po' di giallo no ha visto che c'è il buco del bastone così è più coreografico ecco gli altri due beh insomma sono sempre da tagliare a fette ma sempre bene siamo sempre sulla strada del pennes e come potete vedere sta nevicando esattamente pochi fiocchi radi ma sta nevicando Aurelio in testa ti rinfreschi le idee se qualcuno senti io ho l'acqua e la borraccia non si può tenere andare dalla nere ma oggi è 4-6 ecco un'altra piccola ricerca nei boschi qua vicini speriamo di trovare qualcosa ecco Massimo, Luca e Aurelio che sono spariti nei boschi qua vicini io sono qua vado a aspettare i ritori come potete vedere nevica nevica ecco va 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 così in su 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 due bei porcinoni bello 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 fresco proprio mentre stava tornando la macchina scornato amico l'uomo siamo a bardolino siamo scappati da da stanga e da lipiteno perchè c'era la neve Qua invece fa caldo, si sta bene, adesso siamo fermati qua a mangiare, ecco questo è il lago di Gardo. Siamo a tavola, tutti per mangiare. Grazie.